Vabbè ragazzi continuiamo la partita ovviamente per questione di tempo ho interrotto il video con quello precedente perché secondo me da qua in poi ci saranno sequenze di storie che non voglio andare a spezzare in due mi è sembrato un buon punto riprendiamo allora dobbiamo praticamente andare a proteggere allora questo qua dobbiamo cederli dobbiamo andare a proteggere raga questi questi ottimo livello 23 questi tutti della resistenza ma adesso facciamo partita sta gentile poi cerchiamo di capire ci diranno che cazzo dobbiamo fare questo è molto pericoloso però il corpo a corpo è difficile è un po' difficile da ingaggiare ok ora ci spiegheranno ecco è un po' difficile bella è questa sessione un po' videogiochi anni e stanza io ci giocavo un sacco a questi giochi qua di aerei dove sparavi con la visuale e adesso non mi ricordo i nomi però ce n'erano un sacco cioè andavano di moda tantissimo erano divertenti basso budget come se non mi ricordo i vecchi giochi come se non mi ricordo come se non mi ricordo attenzione questo è il portatore di blu ridge 2 requestando supporto da alcuni uniti di fronte in rinco è venuto a freddo da l'initi il nostro portatore è stato dappato e non si può entrare andiamo a prenderlo per lì ripeto, questo è Carrier Blue Ridge 2 necessitiamo un backup immediato da qualsiasi forse avviene avviene aiuto sto qui dietro arrivando bella, bella in attacca questa situazione esplosione a gogo sto prendendo un enemigo di grande scale inbound, sembra di essere 2.8 clic a nord a nord in attacca in attacca per la parte oh razzi 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 grazie gotcha se è così grande dovremmo poterlo vedere! C'è una macchina? È davvero grande! Cosa! È bloccato attacca con gli MP blasts! Abbiamo trovato un modo di farlo! 2B, la commande è cercando a lanciare un satellite laser attraverso il tuo target, ma il tuo attraverso l'attraverso il trattato è impossibile! Vi bisogna trovare l'emittera e prenderlo! Oh, è tutto questo? C'è un modo, ma è l'unico modo! EMP generator target confirmed! Marking on map! Proposal! Destrua il generator velocemente! 2B! 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 3B! 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 4B! 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 5B! 5B! 4B! 5B! 5B! 6B! E' andato. Nulla di fattibilissimo, ragazze. Però comunque sono sessioni divertenti. E' ancora vivo. Oh, ma quanti ne sono arrivati? Oh, ma quanti ne sono? E' andata questa area per i rinforzamenti. Ho un'idea. Tu e me dovremmo rinforzare nel posto che ho appartato. E' andata questa area per i rinforzi. R1 fuoco. Vai. Non ne faccio niente. Ok. Ok. Ora. Oh, no. No. E' un Godzilla robot. Tutti i punti deboli sotto la pancia. Ok. 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 . Ok. 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 2B! I'm going to see if we can use those nipples back on the shore. But I need you to destroy the EMP unit on that big back. Otherwise they're just going to go off course. On. I don't know how to do this! I just made that statement! I got it! I got it! I got it! It's fine! I got it! I got it! I got it! I got it! Yeah! I got it! I got it! I got it! I'll be here! I'm going to hit the SHOW! Thanks. va bene dai easy raga c'è la confusione però nei ripontanti però non è una roba ingestibile per il momento un po' mi ha fatto male mi sa che era scherzato però eeeh eeeh ancora quanti quanti due dovevo usare i razzi prima me ne facevo fare una cifra eeeh 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 figo s-signal lost organize a search and rescue party for the missing yorha members at once 2b minus don't die on me eeeh eeeh lei ci tiene un pochino noi eh comunque ogni tanto mentre vabbè io sui pezzi che taglio guardate mentre le cose secondarie ogni tanto ci parla così non è proprio fredda ah abbiamo distrutto il Godzilla robotico e ora? ma non non ma 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 2b 2b Perchè 2b hai a go following your missile strike eight hours however it's emp strikes knocked out comms all across the region we're having trouble getting them back online which means data uploading is currently unavailable in some areas where's 9s um yeah about that we picked up a faint black box reading but it wasn't strong enough to lock down his position if you found something that means he must be alive put in a request to the commander for immediate approval to begin a search actually the commander has already ordered us to prioritize tracking down surviving your members if you find 9s let me know ok we'll do to be out so we're only on the left I need you to scan for any nearby black box signals scanning complete no signals detected however a dynamic scanner is required for detection of weaker signals never heard of it set dynamic scanner may be located in the resistance camp proposal further information ok si trova l'accampamento della resistenza ok si trova l'accampamento della resistenza ok ok quelle gemelle sono che cosa no what do you want easy devila there's no need to be so confrontational and you don't have to trust every idiot that wanders by I'm sorry about that I need a scanner that can detect faint black box signals I was tinkering with something like that a little while back there if you want it it's all yours that chip should help with your search once you install it it can detect black box signals quest objects all manner of things you'll hear sound whenever it finds something and if it ever bugs you too you can always pop it back out let us know if there's anything else you need from us ok and don't think this makes us friends oh devil ok allora possiamo inserirlo come chip inseribile se abbiamo capito dovremmo avere un abbiamo un posticino vediamo un attimo chip di controllo vediamo un attimo attacco supporto manomissione manomissione più uno no supporto ok ah no ok allora va qua raga scanner usa onde ultrasuoni per emettere un raggio che fa vedere oggetti invisibili dovrebbe essere questo? no ok no 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 un attimo non l'ho cambiato allora armi programma pod scanner scanner no no non ho capito come funziona ah ok così fermendo L1 è come tipo un è come se fosse una funzione secondaria ok 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 quindi sono riuscito a equipaggiarlo correttamente va bene ok ok allora eh vabbè eh demoliamo quattro demoliamo quattro demoliamo quattro eh ma quattro ma quattro ma che sta accusando se lo attacchi non riesci a reagire boom easy allora usiamo no questo era il laser un attimo lo scanner sulla un attimo mitragliatrice sotto gli orti nessuna risposta funzionità limitata e rilevata nella scatola nera video ancora video contatto al bunker affermativo non è che devo andarla dietro? no però non mi sta aspetta 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 ci siamo? funzionità vitali operativi no ok ero con te ero con te lo vedo bene l'esplosione ha detto che sto volando in quale direzione? difficile dire prenderò la mia best guess a un spot landing e trasferirò la data a te grazie dovresti restare qui fino a che la squadra risposta data target location data ottenuta marcatta ok allora vediamo dove si trova destinazione è questo il nostro punto di interesse non credo ah si 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 è proprio qua dov'è? avvicino all'ingresso del parco giochi credo però nei sotterranei ah è tornato nuovamente sotto raga dove avevamo decato quei due androidi dove c'era la la nave degli alieni dobbiamo praticamente viaggiare fino a la ok ragazzi facciamo un check eeeh dovrebbe destinazione dovrebbe essere qua dentro un attimo un attimo un attimo mi sa che devo salire eh mi sa che devo indicatore personalizzato no dovrebbe essere sotto non riesco a capire raga se è sotto o sopra vabbè eeeh facciamo un giro qua adesso sono di livello 14 certo che è se è sparito qua dentro vuol dire che l'ha catturato qualcuno come nessuno un attimo un attimo un attimo ma è giusto? dove sta andando ragazzi? non è giusto ragazzi adesso infatti molto probabilmente credo l'abbiano catturato e l'abbiano portato qua è giusto non è giusto non è giusto ma è giusto che per l'uomo è giusto è giusto Cosa è questo? Analizzazione. Questa zona è composta da cristallizzato silicon e carbonio. Più dettagli non conosciuti. Chi ha costruito? Non conosciuto. Allora, abbiamo una mappa di questa città? No, niente. Dobbiamo andare a tentative. Cosa è con i corpi? Non è vero che le unità di Yoha venivano così vicino. L'ipotesi. L'unità deve aver posizionato lì. Le unità sono venute qua di loro spontaneamente. Questa è chiusa vero? Sì, infatti. Questa è chiusa. Boss fight in arrivo. Cosa città? Cosa città? Cosa città? Votre città. Sono cambiate. La storia di Kino. Cosa città? Ciao. Votre. Votre città. Invece in cui si troviamo. Non c'è, ci sottosamente. L'amore, famiglia, religione, guerra. Il più ricordi di humana, il più amico da loro complessi. Questa città è una delle molte aree che ho creato da un desiderio di capire, di capire, di capire, di capire, di capire. È grande, non ti pensi? Quasi... spirituale. E ancora non è ancora più che un'androidi graviar. Sì, ma è Adam, quello che avevamo già affrontato. Solo allora ho capito la verità. Il cuore dell'umanità è conflitto, combattere, scendere, uccidere. Questa è l'umanità che è la più stessa vita. Non sai nulla sull'umanità. Ho capito la verità, un'android? Ho capito la verità di un'umanità che amici? La verità può essere molto dolore. Ho capito per capire la verità di essenza di un'umanità. di essenza di un'umanità. Ci nostri macchine ci sono le nostre entorni in un'unica internazionale. Ci siamo immortali, invincibili, E ancora, in tutti quei numeri di dati, non c'è anche il più vicino di vita, di vita, di morte, di morte, anche il concepto di morte, non c'è più per noi. E così, ho deciso, che ho dovuto rispondere la mia vita in battle. I have severed my connection to the network. Now, let us embrace death. Sto disconnesso dalla rete, raga, come gli altri robot, quelli pacifici. Vuole comprendere l'umanità. Purtroppo io, i diagoli, vabbè, non riesco a seguirli veramente bene, non sto combattendo. Maledetto, quando fa sta forza vacca di... Maledetto. 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 Perchè? Ah, 9S? Oh, mi piace di questo. 9S! Vuole provocare emozioni negli androidi. Ora, saluti. Mamma mia che mire di merda quando uso queste cose. Ah, io. aia boom sì ma cosa c'ha c'è una saluta infinita aia porca vacca merda quante cure ho ancora? vabbè 29 di nuovo vabbè ma quando ma vabbè è imprevedibile è imprevedibile brava io lo spammo l'ha schivata ma è talmente veloce che devo anticiparlo un pochino aia è imprevedibile so dark so cold 9S 9S 2B come on let's go home adam è morto adam è morto però raga non abbiamo capito qual era il suo vero scopo e il suo fine ultimo cioè sia farfugliato qualcosa poi io combattendo non è che ho letto bene poi magari me lo riguarderò per capire meglio però farfugliato sul volere scaturire le emozioni sui robot e thanks oh what nothing just you've never been much for gratitude you know not that I'm behind or anything oh I also have a message for you command needs you to contact them asap got it e e e e si insomma cioè è stato un po' maschiavellico oh hey 2B roger that give me just a second here 2B good job destroying that machine upon further analysis we learned that the machine codenamed adam was responsible for managing half of their entire network a disruption of this magnitude to their network should weaken the machine significantly what's going to happen to 9S he'll undergo a full data overhaul up here assuming we don't encounter any problems we're planning to partner him with you again thank you in the meantime I have another mission for you I've mailed you the briefing go ahead and take a look understood ok ok ragazzi allora ci salutiamo qua controlliamo il briefing nella prossima partita secondo me di adam ne sentiremo parlare ancora non è finita qua non ne sono convinto perché secondo me è un personaggio importante e si è capito davvero ben 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 poco ha far appogliato qualcosa le sue intenzioni non è che lo trovate chiarissime però secondo me ci sarà una spiegazione aggiuntiva in futura quindi io spero che il video vi sia piaciuto se vi va dovete supportare il canale con un piace in descrizione non costa nulla aiuteraste a crescere quindi ci vediamo alla prossima bella ciao